Giorno di comproprietà oggi per Catania e Palermo alle 19, il termine ultimo per definire gli accordi. Pochi gli affari in corso per i rossazzurri, un po' di più per il rosa nero. Partiamo dal Catania, Antenucci resta al Torino così come dovrebbe restare all'Ascoli Pesce. Se lo Monaco non si accordasse con il club marcigiano si andrà alle buste. Del vecchio centrocampista dell'Atalanta torna al Catania che cercherà però di piazzarlo sul mercato. Donna Rumma, attaccante del Gubbio, resta al club neopromosso in Serie B. Alla società Umbra dovrebbe essere ceduto anche il portiere Kosischi. Catania sempre su Paia Lunga e Guglielmo Burdisso del Rosario Central. Lo Monaco però inizierà l'offensiva a inizio della prossima settimana quando avrà certezze anche su Mosh del Boca Juniors. Infine Morimoto e Terlissi potrebbero imboccare l'autostrada che porta a provare... Oggi dopo le 19 qualche nodo verrà sciolto, a quell'ora infatti scadono i termini per trovare un accordo sulle comproprietà. Più di 200 giocatori attendono di conoscere il loro destino. Poche le situazioni spinose per Catania e Palermo ma diverse per altre società di A che dunque frenano le trattative in attesa di capire la reale rosa a disposizione. Il Catania ha portato definitivamente a casa Lodi e Moretti e ha trovato l'accordo di massima col Torino per Antenucci che resterà in Granata. Per il resto la fanno sempre da padrone Maxi Lopez e Silvestre con le trattative che potrebbero essere avviate in Italia e all'estero se si guarda il difensore argentino che lo Monaco considera fra i migliori del campionato italiano secondo solo a Tiago Silva. In arrivo il dirigente Etneo ieri a Sky ha smentito le notizie relative ad un possibile ritorno di Martinez. Oggi il giocatore ha degli emolumenti assolutamente insostenibili per quanto concerne il Catania. L'Omonaco parlando di Montella ma in generale degli allenatori ha ribadito inoltre un concetto della sua filosofia. Hanno tutta la piena autonomia e tutta l'assistenza della società ma devono allenare le squadre e non decidere anche le campagne acquisti cessioni. L'Omonaco parlando di Montella ma in generale dell'Omonaco parlando di Montella ma in generale dell'Omonaco parlando di Montella.